Buongiorno ragazzi, sono sempre io Mattia99, questo è il giardino di casa mia, eccolo qui, questo è il cancello, qua abbiamo anche la mia piscina per fare un bel bagnetto, perché fa fuori e fa veramente caldo. Questo è Dindale, il mio cane, che sta con me, vabbè. Ok ragazzi, questo video è finito, ci vediamo al prossimo video, ciao!